La prima sfida di questo Tutti Contro Tutti è tra Antonello Urtu e Antonio Urtu, il grande classico. E allora, una buona salta al polo positivo da Lorenzo De Riu, ci siamo, stiamo cominciando. Sport sotto le stelle inizia adesso. La palla va dentro. Aia, doppio fallo. Nel secondo punto arriva il doppio fallo a parte di Lello. E scappa. Aveva scelto ancora di andare sotto rete, ma... Dunque, primo turno a servizio per questo torneo per Antonio. Vediamo un po' come va. Ricordiamo che appunto ha strappato il break già nel primo game. E' gran prima. Chiude con la smorzata qui. E' fuori, è lungo. Quasi... Quasi... Tantissimo. E' il lob è buono. Il lob è buono. E' rimasta in campo questa risposta. Dunque, 3-0 per Urtu Antonio, che ha strappato nuovamente il servizio a Lello. Adesso serve per portarsi addirittura sul 4-0. Eh, una staccata è riuscito a far passare questa pallina. Quindici pari. L'ha provato a pocciare con il dritto la... Ancora sotto rete, e il passante non passa stavolta. 40-30. Possibilità di essere un testa a testa alla fine dei conti tra di loro. E' lunga. 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 e anche il nastro è dalla parte di antonio ort e chiude con la voler di rovescio lì il mio servizio è buono e arriva il match point e finisce qui finisce 6 a 0 finisce in gloria per antonio otto con un netto 6 a 0 non c'è stata partita non c'è stata storia ripeto antonio è più allenato rispetto all'ello e forse questo ha influito nella partita